e per poi aver ripartizzato anche il nostro luogo la cassa delle imprese e dei consumatori perché ci è piaciuto molto. Adesso sentiamo invece qual è la sintesi del rapporto che viene presentato quest'anno e naturalmente il compito lo assegniamo al professor Fabio D'Assani. Vi diamo, grazie. Io ringrazio tutti, ringrazio gli ospede, ringrazio anche il Consumaforum che è compito secondo noi di questi studi annuali che partono sempre da qualche parte, non si sa dove arrivano e poi quando hanno risultato anche al limite del convocatorio si seguono fino al fondo perché poi la ricerca è giusto che sia così. La professoressa Rossi Carleo che è il coordinatore scolico di questo gruppo ha posto un po' i temi che abbiamo assuntato, come ci diciamo posto, cioè tentando di assuntare quello che abbiamo chiamato un trilegio, il rapporto tra investimenti quindi necessità di risorse per le sue strutture, tutela dalla concorrenza che in un momento di crisi è sempre subordinata appunto agli investimenti, guardate quello che succede nell'Unione Europea in relazione alle banche, agli Stati, agli intervisti di interesse economico in generale e poi il terzo corno del tema che è quello che ci interessa, quello delle tutele dei consumatori, cioè le tutele che si ne fanno in questa fase storica in cui in fondo le risorse sono scarse e quindi in qualche modo vanno allocate ma come stiamo vedendo quasi mai a tutela del funzionatore. E siamo partiti da quest'analisi, però l'abbiamo assuntata in modo originale, cioè non assuntato i tre temi, i tre formi del trilegio ma singolarmente ma in modo trasversale come giusto indagare questi fenomeni. Per cui in una prima parte della ricerca trovate l'impostazione del tema, in una seconda parte che è stata durata nei problemi di ricerca Lazzara trovate l'invituazione dell'analisi fisiologica dei diversi mercati e nella terza parte, quella patologica che ha coordinato la Paola Valenzice, trovate un po' le precipitate, cioè come i consumatori riescono a individuare e a trovare il tele in questo ambito. E qual è stato un po' il risultato della ricerca che si intemizzo qui senza farmi adilungare e poi potete trovare nel rapporto un po' tutti i dettagli. Abbiamo individuato i quattro elementi di cui parlava il professore Storossi-Cardella, cioè quattro ambiti in cui questo trilegio può trovare unità, cioè quattro ambiti in cui i generi dei consumatori possono comunque trovare una garanzia anche in questo ambito, in questo momento particolarmente frammentata. E ce lo siamo posti quindi a quattro livelli. Il primo è stato quello che non è più. Ci siamo detti che in questo momento, in questa fase storica in cui di fatto si propone nuovamente in un modo diverso l'apporto tra concorrenza e regolazione che qualcuno ricorderà era il tema degli anni 90, prevale l'uno, prevale l'altro, una digitale, una speciale, prevale la regolazione in una prima fase e poi con la concorrenza, l'operare in modo pieno perché la regolazione non è più necessaria. Il tema oggi si pone in un modo diverso perché è più complesso, non è più un rapporto tra autorità della concorrenza e autorità di settore, è un rapporto tra le autorità tra loro, ma tra le autorità nazionali e poi europee, nel sistema regolatore, è un rapporto tra autorità e governo, diventa sempre più specifico, è un rapporto con la Commissione europea, cioè una rete di relazioni e rapporti che rende appunto questa risposta alla domanda un po' più complessa. E la risposta che abbiamo trovato noi a fare una ricerca è una risposta un po' diversa da quella che viene fornita abitualmente oggi a seguito della pronuncia dei consigli di stati, che individuano un rapporto tra autorità della concorrenza e altri problemi di settore in una relazione di generalità e specialità. Si dice prevale la norma di settore quando è così completa da assicurare in un ordinamento pieno e quindi non residua nulla per il diritto della concorrenza. In tutti quanti gli altri casi c'è un rapporto di concorrenza tra autorità. Bene, abbiamo studiato un po' come questo rapporto, così come è stato qualificato dal Consiglio di Stato potrebbe evolversi e realizzarsi in concreto, abbiamo concluso che in realtà non è la soluzione più ragionevole. La soluzione più ragionevole è la soluzione più ragionevole dell'altra, cioè quella di abbandonare un po' la superstizione del rapporto tra norma generale e norma speciale, perché le autorità di cui stiamo parlando sono autorità di direzione europea. Nel diritto dell'Unione Europea il rapporto di specialità non è quello che guida le istruzioni, la guida è il principio di sussidiarietà, è il principio di prevalenza del diritto dell'Unione Europea. E quindi applicando questi principi abbiamo trovato che in fondo queste relazioni tra le autorità, quindi sostanzialmente tra l'autorità della concorrenza e la proprietà di settore dovrebbe essere guidata da un altro principio, ovvero quello dal punto della prevalenza, ma non della specialità, in base al quale in tutti i casi in cui gli autorità di settore forniscono una garanzia che raggiunge un livello minimo di tutela per il consumatore, perché la studio l'abbiamo affrontato sul caso dei consumatori, ma in questo caso le proprietà di settore sono chiaramente importanti, ma dove nella disciplina del settore questi principi di tutela minima non sono garantiti, torna in gioco la proprietà della concorrenza, ma non in quanto residuale, ma in quanto sussidiarietà, perché questo è il principio in base al quale va per un punto di autorità, secondo la norma del mondo. Allora, se questo è vero, qual è la soluzione? La soluzione deve essere in primo luogo su un piano normativo, ovvero tornare all'unità del consumo, non lo diciamo solo perché non si chiamerà questa parola degli acquisiti di questa cosa, ma perché questa unità sistematica che si aveva appunto pochi anni fa, adesso ormai si è spaventata in tutta una serie di codici che probabilmente non sono, non dicono l'unità del sistema. Probabilmente c'è bisogno di una norma che qualifichi questo principio in un modo un po' più sistematico di come possa fare la giurisprudenza, perché evidentemente poi assidare la regolazione di settore a principi di rispondenziali comporta gli inconvenienti che stiamo vedendo, cioè la giurisprudenza poi cambia a seconda dei casi, perché il giudice questo fa un valutato caso non è più. Sul secondo livello abbiamo provato a mettere l'idea di questi tre corni del dilemma e cercare di capire come le autorità tra loro possono comunque anche in assenza di una soluzione normativa trovare una soluzione, quantomeno ridurre le felicità del sistema attuale. Perché diciamo questo? Perché in Europa alcuni esempi in questo senso cominciano ad essere applicati, anche in modo efficace. Abbiamo fatto il caso, sia nel rapporto dell'anno scorso che ancora di quest'anno, delle autorità europee, del settore finanziario, come l'Ireo, l'ESMA e l'EBA, che hanno coordinato l'attività all'interno in materia di consumatore, cioè queste tre autorità di nuova restituzione hanno creato delle sottocommissioni che si occupano appunto dell'Italia del consumatore, certo in mercati motivi e in settore nato, però affrontano il tema in modo unitario, fanno consultazioni in un modo di nuovo, con una commissione unica, per cui cominciano a dare unità a un tema, quello dell'attività dei consumatori, che in realtà in cui i mercati veniva considerato in un modo separato. Ora, se rendiamo conto che un conto è affrontare il tema con tre autorità di nuova costruzione in mercati motivi, per case navoli, e un conto è proporre questo in Italia quando abbiamo autorità che sono nate, alcune, autonomamente alcune hanno due origini comunitari, i tempi differenti, con poteri sindicariari differenti, quindi ci rendiamo conto della difficoltà, però probabilmente la tutela, quindi anche aiutare i consumatori in questo ambito potrebbe trovare una soluzione più armonizzata qualora si fosse un coordinamento tra queste autorità. Un coordinamento che può realizzarsi tranquillamente a livello di un accordo, che sia un accordo multilaterale, che consenta all'autorità di riunirsi periodicamente individuali temi comuni, prevenire le quali patologie del sistema, insomma creare una sorta di rete dei regolatori nazionali che non va a sostituire la rete dei regolatori europei, cioè la rete che ogni regolatore ha con gli altri regolatori di settore nell'ambito europeo e poi con la commissione dei regolatori europei, ma si va ad aggiungere e va a creare un tessuto connettivo nel nostro sistema che sicuramente può essere per aiuto. Cioè, quello che stiamo dicendo è che forse c'è una possibilità, un'esigenza concreta, di armonizzare il modo in cui ciascuna autorità armonizza tutta la rete dei regolatori, cioè creare una sorta di autoregolazione dei regolatori che è chiaramente compatibile con la normativa dirigente e che probabilmente può intervenire per prevenire alcune proprietà del sistema che stiamo affrontando. Questo del resto è un tema che le autorità stanno affrontando tutte quante, quasi tutte, al loro interno. Perché? Perché, siccome il sistema si sta evolvendo, abbiamo la nuova ambientale di trasporti che è appena nata, che ha già in luce assolutamente questa esigenza. Parliamo di una necessità di tutelare i consumatori in settori disparati che vanno dai porti agli apporti alle strade, alle ferrovie, al servizio pubblico locale, fino ai dazi. Ma anche le altre autorità hanno questa esigenza oltre di armonizzazione nell'interno e all'interno. Pensate solamente alla G.com che ha competenze anche in materia postale, immaginate già semplicemente le procedure di conciliazione che sono diverse. L'autorità per dirigere anche dai gas che ha competenze nel settore etico, il settore etico che ha disseminato in modo molto più generale, da dove, ad esempio, anche le carte dei servizi non erano monitorate, ma la distribuzione di competenze all'autorità, che comunque non sono conosciute e in cui le procedure di conciliative sono significativamente diverse. Quindi sono esigenze che, obiettivamente, sono già all'interno dell'autorità e laddove non lo sono vengono come istanze forti dal mercato. Faccio riferimento alla CONSOV e, ad esempio, uno di questi temi di questi ultimi mesi è il regolamento sul transagno, cioè un tema su cui la CONSOV ha intervenuta creando una disciplina che probabilmente diventerà un benchmark in Europa perché siamo i primi ad intervenire in tal senso, però chiaramente non è una disciplina completa perché tutta una serie di altre tematiche devono essere regolate dal legislatore o eventualmente dalle altre autorità che saranno conferenti, che ad esempio iniziano le conciliazioni in Calafandi, dove si va, dalla GCN, se è una pratica commerciale scoperta, piuttosto che dalla CONSOV, piuttosto che dall'ADF, cose che vanno appunto disseminate e regolamentate, ma in un modo coordinato. Questo per noi è importante, questo coordinamento su un secondo livello, perché consentirà alle autorità probabilmente di creare delle esperienze comuni che poi saranno a servizio di prese anche con gli europei. Questo già avviene, vi faccio un esempio che non riguarda questo secondo livello, ma il terzo che abbiamo individuato. Cioè il tentativo di creare una maggiore logomotività nei rapporti tra operatori in un sistema che ormai sempre di più è delgidicato e quindi si va orientando verso un'autoregolamentazione e un'autoregolamentazione, cioè una regolamentazione che è negoziata con le autorità in primo caso e solo tra gli operatori nel secondo caso. Ebbene, questa spinta dell'Unione verso un'autoregolamentazione sta in alcuni casi paradossalmente in gestione del sistema. È quasi una paura della libertà che gli operatori che risolvono la possibilità appunto di pervenire sul mercato con norme autoregolate lo fanno in modo molto prudente e quindi bloccano i mercati con delle potenzialità che vengono limitate. Faccio un esempio limite che evidenza il paradosso. Nell'ambito delle comunicazioni elettroniche l'Unione Europea ha consentito l'autoregolazione degli operatori nel settore del proprio placement nell'ambito televisivo. Bene, questa autoregolazione è talmente estrema che non è negoziata né con l'autorità né tra gli operatori, ma è negoziata dall'operatore con se stesso. Ogni operatore costituisce il proprio codice, lo pubblica e poi è tenuto a rispettarlo. Ebbene, questa è stata una regolazione talmente estrema che oggi gli operatori stessi chiedono l'autorità a un coordinamento. Non è co-regolazione, non è un'autoregolazione semplice, è un'autoregolazione co-ordinata, perché diciamo ai Romani il terzo non dato, ma noi in generale non vediamo molto. Ma perché questo? perché c'è necessità anche dal mercato di coordinare le regolazioni e coordinare le forme. Indubbiamente il caso del trasporto che è appunto una nuova istituzione sarà interessante perché è il primo momento in cui tutte queste esigenze in settori così diversi devono essere tutelate. Probabilmente questa esperienza di un servatorio di questo tipo che colpina l'autoregolazione potrebbe essere utile. Sicuramente però è un'esigenza che il mercato deve perseguire. Per loro stessi devono andare verso un coordinamento dei codici di autoregolazione, delle carte di servizi, perché altrimenti il sistema è troppo disaggregato, troppo disponibile. L'ultimo livello però, giusto in chiusura, è quello della situazione dei consumatori perché proprio grazie a Consumer Forum stiamo elaborando tutta una serie di strumenti che consentono anche alla situazione di rendersi parte dell'ingente per ottenere appunto un coordinamento a un primo livello, a un secondo livello, a un terzo livello per operatori, perché è una presa delle responsabilità che i consumatori devono prendere. Nel senso che questa fragmentazione verso la quale stiamo andando costituisce un danno non solo per il mercato, non solo per gli operatori, ma anche e soprattutto per i consumatori. Grazie.